ben ritrovati con con tech e ben ritrovati con il nostro spazio dedicato alla sicurezza oggi vediamo da vicino tutti i segreti del nuovo norton internet security 2011 il programma di simante che studiato per offrire una barriera efficace contro tutte le principali milancie online sempre più sofisticate e complesse che richiedono quindi strumenti altrettanto validi e completi per poterle contrastare efficacemente tutto questo però senza compromettere le funzionalità del nostro pc vai col clic il mondo di internet può essere pericoloso i criminali informatici utilizzano qualsiasi metodo per impossessarsi di dati personali o rubare denaro ogni volta che vengono eseguiti acquisti e operazioni bancarie online o vengono visitati siti di social network il 65 per cento degli adulti afferma di essere già stato vittima di questi crimini per navigare online in modo sicuro è necessario perciò ricorrere a misure drastiche norton internet security 2011 fa molto di più al fine di assicurare una protezione completa che consenta di navigare senza diventare un'altra vittima dei criminali informatici e senza rallentare il proprio computer dispone delle stesse funzionalità di protezione da virus e spyware offerte da norton antivirus compresi una protezione antivirus efficace informazioni sulla reputazione dei file scaricati e aggiornamenti rapidi e automatici ma norton internet security va oltre con funzionalità di protezione avanzata contro crimini informatici e furti di identità oltre a strumenti per la protezione dei minori che consentono di esaminare i comportamenti online dei propri figli innanzitutto norton internet security fa di più per una maggiore protezione dai siti web pericolosi al fine di evitare frodi informatiche inoltre norton safe web segnala siti web non sicuri o relativi ad attività commerciali sospette direttamente nei risultati della ricerca ciò comprende migliori funzionalità anti phishing che bloccano i siti web fraudolenti usati dai criminali informatici per rubare denaro o dati personali norton identity safe memorizza inoltre i nomi utenti e le password per poi metterli automaticamente al momento opportuno è possibile così risparmiare tempo e tenere i propri dati al riparo da sguardi indiscreti gli strumenti per la protezione dei minori sono ancora più efficaci e consentono di bloccare contenuti web inappropriati e di insegnare ai bambini un uso sicuro di internet norton internet security offre persino strumenti di soccorso che consentono di rendere nuovamente operativo in pochi minuti un computer infettato o danneggiato uno di questi strumenti è norton bootable recovery tool che consente il ripristino di un computer danneggiato a tal punto da non poter essere più avviato norton internet security 2011 integra tutte queste funzionalità nel centro di controllo norton si tratta di un semplice pannello di controllo con informazioni sullo stato di protezione del tuo computer un accesso semplificato ai servizi online come norton online backup norton online family e norton safe web e addirittura un servizio di rilevamento dei crimini informatici con informazioni aggiornate sulle minacce online nelle diverse aree geografiche norton internet security è in grado di offrire tale protezione essendo allo stesso tempo il prodotto più veloce e leggero oggi disponibile sul mercato è infatti più rapido del 61 per cento nelle scansioni delle minacce e usa il 41 per cento in meno di memoria rispetto alla media dei prodotti concorrenti dopo la sicurezza come di consueto tocca al nostro servizio virtua che oggi dovrebbe renderci tutti un po orgogliosi di essere europei abbiamo infatti deciso di scovare di mettere in evidenza alcune delle principali innovazioni tecnologiche che sono state realizzate nel vecchio continente con il contributo spesso direi fondamentale anche di noi italiani come vedremo nel servizio la nostra tecnologia non ha nulla da invidiare ad altre più blasonate come quelle americane o del sollevante vediamo perché vai col click è probabilmente il fiore all'occhiello dello sviluppo tecnologico del vecchio continente stiamo parlando del cern l'organizzazione europea per la ricerca nucleare con sede in svizzera vicino a ginevra si tratta del più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle che consente ai ricercatori di dare risposte ai quesiti più suggestivi della scienza come quelli che riguardano ad esempio la nascita del mondo attraverso un sofisticato complesso di acceleratori compreso il moderno large andron collier grande collisore di androni gli scienziati sono riusciti recentemente a creare e imprigionare l'antimateria un risultato storico tutto made in europe la capacità europea di innovare si trova anche nei trasporti sia quelli civili sia quelli militari il TGV acronimo di tren a gran vitesse ovvero treno a grande velocità è forse l'emblema più conosciuto con una storia che risale addirittura agli anni 60 via via l'evoluzione tecnologica permesso a questo treno di polverizzare diversi record di velocità passando dai 318 chilometri orari raggiunti nel 1972 ai 574,8 chilometri orari fatti segnare nei test del 2007 qualificandosi come il treno più veloce al mondo su rotaia forse non tutti sanno che tra i primati europei c'è anche il consorzio airbus composto da aziende francesi tedesche spagnole e britanniche gli aerei airbus sono ormai diffusi in tutto il mondo grazie a numerosi primati conseguiti nel campo dell'aviazione civile come dimostra il recente successo dell'a 380 il gigante dei cieli è attualmente il più grande aereo passeggeri del mondo capace di trasportare fino a 853 persone grazie alla presenza di un doppio ponte lungo 79 metri alto 24 viene gestito da ben 22 membri dell'equipaggio e due piloti piloti invece totalmente assenti sul wav ammaned area vehicle prodotto dal consorzio airz la compagnia di difesa aeronautica e spaziale europea i modelli realizzati sono diversi dal sofisticatissimo neuron ai famosi talarion barracuda night jar sky x sky y sono tutti aerea pilotaggio remoto droni utilizzati spesso come rilevatori radar e antibatterie aeree sempre un aereo militare questa volta con piloti a bordo è invece l'eurofighter typhoon che come dice già il nome stesso è un veicolo tutto europeo e rappresenta attualmente uno dei caccia più avanzati nel panorama internazionale ottimo compromesso tra agilità e avionica possiede un sistema di controllo digitale fly by wire della stabilità che garantisce elevata maneggevolezza nel combattimento manovrato a distanza ravvicinata il typhoon ha una superficie alare di 51 metri quadri e può raggiungere una velocità in quota di 2060 km orari sembra un tifone anche la bugatti veiron di costruzione francese un vero e proprio mostro tra le supercar in circolazione capaci di passare da 0 a 100 km orari in 2,5 secondi producendo un'accelerazione media di 1,01 g un record per le auto omologate equipaggiata con un motore v16 di 7.993 cc di cilindrata è capace di raggiungere una velocità impressionante il collaudatore james may è riuscito a spingerla a 407,53 km orari sul lunghissimo rettilineo del circuito tedesco era l'eisen i presenti l'hanno descritta come un missile su strada anche in fatto di missili veri e propri l'europa vanta un bel po di primati soprattutto con la produzione dei famosi razzi arian i vettori per uso civile costruiti per conto dell'agenzia spaziale europea il primo missile è stato lanciato nel 1979 dando il via una serie lunghissima di lanci in modo particolare con i vettori arian 4 e le recente arian 5 che in oltre 190 missioni hanno portato in orbita più di 230 satelliti per telecomunicazioni tra questi anche quelli del nuovo sistema di posizionamento galileo il nuovo gps europeo entrerà in funzione nel 2013 e si baserà su 30 satelliti orbitanti su tre piani a circa 24 mila chilometri di altezza bene direi che questa carrellata tecnologica continentale rinsalda ancora più efficacemente il nostro spirito europeista con grande vantaggio di dimostrare in termini pratici la validità di un vecchio agio ovvero che l'unione fa la forza davvero tutta l'europa insieme è capace di esprimere grandi eccellenze eccellenze che continueremo a raccontarvi anche settimana prossima soprattutto con un servizio davvero interessante e curioso quello del trasporto di un iceberg dal canada alle canarie un progetto testato per ora solo in modo virtuale con le sofisticate tecnologie di da suo sistema ma pronto ad essere messo davvero in pratica grazie alla suggestiva teoria del visionario ingegnere francese george mougell scoprirete qui su contech al solito orario naturalmente su odio e mi raccomando mandateci sempre i vostri commenti e i vostri suggerimenti via email a info chiocciola contech.tv grazie e alla prossima ciao